Tom Jones in concert. Tom Jones, come voi sapete tutti, è un cantante e attore gallese, con oltre 50 anni di carriera sulle spalle, una carriera iniziata nel lontano 1963. Tom Jones è diventato un'icona del mondo della musica e uno degli artisti più famosi e di successo della storia contemporanea, con oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E questa sera la nostra banda ci eseguirà alcuni dei suoi più famosi brani. Tom Jones in concert. Prego maestro. Grazie. 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 Grazie a tutti.